Benvenuti amici di Spalciano nella ventiduesima giornata di campionato di promozione, girone A, Spalco Dovado Union-Pasiano, sicuramente una delle partite più belle che abbia mai visto e sono veramente contento di raccontarvela in esclusiva, dato che qualche sito che si vanta di raccontare la promozione non l'ha nemmeno nominata, a parte subito forte il Pasiano che rischia di portarsi in vantaggio dopo un minuto, ci prova anche la Spal con Fungo che calcia bene ma para qui il portiere. E il Pasiano però a portarsi in vantaggio su questo errato colpo di testa di Stefano Bianco che libera il numero 10 rosso-blu che colpisce di testa e trafigge Argentone, è 1-0 Pasiano. La difesa della Spalco Dovado nei primi minuti è sotto assedio, Pasiano che rischia subito di portarsi sul 2-0, paracasce veramente di pochissimo, poi benvenuto su calcio di punizione, calcia sul palo del portiere che respinge male, arriva Francescutto come un falco a siglare il gol dell'1-1, la Spal è viva. La partita è appena iniziata. Francescutto decide quindi di riprendersi con gli interessi, quello che ha buttato via a Bannia e sigla gol delle 2-1, Spalco Dovado che inizia a giocare e inizia a dominare la partita, avrebbe anche l'occasione di portarsi sulle 3-1 ma spreca tutto, prima con Paolo Marzin che non riesce a calciare in tempo e poi con Odorico che ci abatta il pallone. Inizia il secondo tempo ed inizia anche la magia di questa partita, sul calcio d'angolo il Pasiano si riporta subito sul 2-2, forse uno schema che permette al numero 11 di trovarsi da solo in mezzo all'area a calciare al volo, trafitto argentone che però non può nulla. La Spalco Dovado non ci sta tanto a pensare e reagisce subito sul calcio d'inizio, palla data larga messa poi in mezzo per Stefano Stocco che arriva a bomba col sinistro e sigla il gol delle 3-2. Come detto prima la partita non ha un attimo di respiro ed è subito 4-2 Spalco Dovado ancora con Francescutto che con un'ottima finta manda a funghi difensore e portiere e sigla la sua tripletta personale. La partita sul 4-2 potrebbe sembrare finita almeno sugli spalti, c'era già gente che urlava andiamo al McDonald, non facciamo nome di chi fosse questo individuo ma l'arbitro purtroppo si inventa un calcio di rigore per il Pasiano. Per fortuna abbiamo le nostre immagini ralentate che ci fanno vedere benissimo come l'attaccante sia già in volo ancora prima del contatto. Ecco qui, il numero 18 del Pasiano si appresta a battere il penalty e non sbaglia cacciando la sinistra di Argentone e 4-3. Sulle ali dell'entusiasmo allora prova il Pasiano a pareggiarla questa partita con questo tiro che però finisce clamorosamente sul palo. Aspalco Dovado viene accusato di avere troppa fortuna allora Francescutto decide di sfidare la fisica e becca palo, palo e linea. Francescutto che si mette le mani sui capelli poteva essere il quarto gol per lui. Nel finale succede davvero di tutto? Partiamo con l'espulsione per il giocatore del Pasiano che trattiene così Marzin, doppio cartellino giallo, Spal che è 11 contro 10, 4-3. Avrebbe addirittura la possibilità di portarsi sul 5-3 ma il portiere decide di compiere un miracolo clamoroso, di dare l'ultima possibilità al Pasiano che non la spreca con il suo numero 11. Si sigla il gol delle 4-4, partita che però non è ancora clamorosamente finita. La Spalco Dovado con il cuore prova a riportarsi in avanti e con Stefano Stocco guadagna il rigore del possibile 5-4. Ci va Petrazzi dal dischetto però sfortunatamente sbaglia e poi successivamente non riesce a ribattere di testa a rete. La partita questa volta è veramente finita, partita che forse non meritava di essere persa da nessuno. Grazie a tutti.